Ragazzi è successo l'incredibile vi sto ricaricando questo video perché signori veramente per chi si è perso questa live non ha idea di quello che è successo Ve la sto riproponendo quindi signori mi raccomando dovete guardarla tutta quanta fino alla fine è qualcosa di clamorosa Quindi mi raccomando tantissimi pollicione in su si merita come minimo 18-20 mila mi piace ragazzi proprio in assoluto Godetevi questo video perché ne vedrete delle belle mi raccomando un bel like Avete bisogno di crediti per FIFA 18? Footloot.com passate nel link in descrizione Dai give me a blue card Oh! Oddio l'ho trovato! L'ho trovato l'ho trovato l'ho trovato l'ho trovato l'ho trovato ragazzi Primo toz Primo toz laga Mario 884 Ragazzi anche buffonne non l'ho visto Non è un toz Oh under by eld 86 Va benissimo Secondo toz! Baffanculo, baffanculo, baffanculo Domani, give me a tots, bonucci 88, bonucci 88 Va bene così, 3, 2, 1, go Eccolo, eccolo così 86 metti a un altro inglese, grifo, beringa Terzo toz, signori, 86, qui si cresce, cazzo Dai, Nico, questo è per te, vediamo se troviamo un bel toz, Nico No, ma troviamo un muses Me lo apro E dai, è così Eccida pure Fabregas Quarto toz Quarto toz, signori Diamo tantissimo Ossille, 88 Un mega pacchetto per Alessandro Iguain 90 Verratti 87 Vai Hummels 89 Hummels Cazzo raga, che pacchetti Porca puttana Da 45.000 Che troviamo il quinto toz, signori Oh, buffon 89 Un pack così a random E dammelo toz Un altro buffon Dai, dammi anche il quarto, no? Oh, toz Oh, robertson, robertson Roberson E signori, quinto toz 87 per noi Oh, toz Va bene, signori Un altro toz E siamo a 6 toz, signori Vidra Ai FIFA Eccolo Eccolo Va bene Va bene, va bene Va bene, raga Purtroppo Non è Non è Allison Ma è l'ottavo toz, raga Ottavo toz per noi 88 Quindi stiamo iniziando a crescere Ottavo toz Anzi, settimo toz per noi Scusate Settimo toz Dopo vado a aggiornare A quanti siamo Arancione La mia sa INIESTAAA 90 INIESTAAA INIESTAAA 90 Neanche tempo di dirlo INIESTAAA MAN OF THE MATCH Signori INIESTAAA MAN OF THE MATCH Pensavo fosse la sard, raga Però INIESTAAA 90 Tanta roba Da con il toz TOZ AAAAAA PIKÈ PIKÈ93 Oddio Doppio Toz Ma che sta da dire 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 Oh mio dio PIKÈ93 Signori Siamo a 9 toz Raga PIKÈ93 BOWEL Non ci credo Regalo Quindi è sta PIKÈ93 ECCOLO 10 toz Vai Così Do cure Do cure Signori Come cazzo si dice Do cure Do cure Dovrebbe essere così Ragazzi Siamo a 10 toz 10 toz Se la sta a perdere Quanto c'è Ha un altro toz Vai così Snodgrass Ha un altro toz Guarda che pacchetto Guarda che pacchetto Siamo a 12 toz E ci da un altro Meno De match 12 toz E un altro Meno De match Raga Oh mio dio Raga Io continuo Non ci credo Raga De che a 91 Ma che cazzo De culo Mesta di oggi Dai Continuiamo Continuiamo If Di nuovo Di nuovo Questo ha detto Che costicchia Raga Questo ha detto Che costicchia Qualcosa Quindi buonissimo Arriviamo a 15 A sto punto If Coulibaly Coulibaly 87 Coulibaly 87 No raga No ragazzi Questa è l'area di Londra Che ci porta bene Coulibaly 87 Iniesta 90 Buffon a go go 12 toz Ma che cazzo Che cazzo sto facendo Raga Vai E toz Oddio Mi sto chiamando Non ci credo Non ci credo Non ci credo Non ci credo Raga a me mi ammazzo Dentro l'hotel A me mi ammazzo Dentro l'hotel A me mi ammazzo Dentro l'hotel Raga A me mi ammazzo Raga 14 toz Coulibaly 94 Coulibaly 94 Raga a me mi ammazzano Mi ammazzano Raga Mi ammazzano Coulibaly 94 Coulibaly 94 A me mi ammazza raga, due toz Siamo a due toz, me ne rimane l'ultimo Siamo a 14 toz raga Dai, 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 dai Draxer, non ci faccio un cazzo Oh, eccolo Eccolo, siamo a 15 toz raga 15 toz 15 toz 15 toz ragazzi Sculo giochi è tornato, ragazzi, in una live 15 toz Ma chi cazzo ve li trova E poi che toz, pk93 e kurt1 94 15 toz raga Non ci credo, non ci credo Non ci credo, raga, 15 toz 16, 16 toz Bamba, bam, 88 16 toz e gundoga Non ci credo, raga, non ci credo Non ci credo, raga Io apro solo dalla web app Io le prossime live a casa le faccio solo dalla web app, raga Raga, abbiamo trovato Pk93 e kurt1 94, il 94 è l'overall più alto Che ci sta Mio dio, raga Mio dio 93, 94 Sono i più alti I più alti che abbiamo trovato in assoluto Guarda, siamo a 88 mila crediti Vado un attimo nel mio club Mi scarto qualcosa Questo è il mio club, ragazzi Guardate Guardate che roba, raga Guardate che roba Questo è il mio club Guardate i toz Kurt1, pk Kurt1, pk Mamma mia, quanti toz Guardate, sono belli corati Guarda quanti, raga Guarda quanti Guarda qua, Iniesta 90 No, vabbè, raga Non ci credo Non ci credo, ragazzi Non ci credo Negozio Ultimo pack da 100 mila, signori Incrociamo le dita 3 2 1 Bam Ok, un oro Falcao Va bene Soddisfattissimo, ragazzi Meglio di così Non potevo chiedere, veramente Una live con 16 toz Iniesta 90 Man of the match Tantissimi Walkout Buffon 89 Cioè, no, raga È assurdo Allora, basta Abbiamo terminato Andiamo nel club Giocatori Vi faccio vedere I miei giocatori trovati Ragazzi, più alti Courtois 94 Courtois 94, ragazzi 330 mila crediti 330 mila crediti per noi Courtois 94 Madonna mia, ragazzi Che live Che live Mostruosa Mostruosa, ragazzi 277 mila Porco due, raga 600 mila crediti con due giocatori In altri 80 mila 90 mila 300 mila No, vabbè, raga Ho visto una live così bella in vita mia Cioè Troppi tozze Chi se l'è persa, raga Non lo so Non so che cazzo si sono persi Il king dei baccomi, ragazzi Ce n'è solo uno E basta Basta, basta, basta C'è niente da dire Dopo aver trovato questi pacchetti, ragazzi Terminiamo con la live Quindi facciamo così Un attimo al volo Io non so che div C'è veramente una live Di fuoco Una live veramente di fuoco, ragazzi C'è Di school or joker Ce n'è solo uno Del king dei baccomi E ce n'è solamente uno Assurdo Quindi io spero vi sia piaciuta Mi raccomando Un bel pollice in su Commentate, condividete Ringrazio tutti quanti coloro Quelli che hanno partecipato In questa live Porterò ovviamente Un estratto live Per Rendere partecipi Anche Purtroppo Chi non ha visto questa live Perché è stata qualcosa di mostruosa Ci vediamo con un prossimo appotamento Grazie mille di cuore a tutti quanti Vi voglio un mondo di bene Alla prossima live Grazie mille ancora a tutti di cuore Ci vediamo con i prossimi toz Quando usciranno Quelli nuovi Quindi per questi abbiamo terminato Perché se no, raga Spegniamo troppi soldi Alla prossima live Grazie mille ancora di cuore a tutti Un bel bacione al vostro giocherino Ciao signori